Musica 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 Signor Presidente Melmo Immagino Signore faccio un respiro La botto in macchina Caro Riccardo, ricordi quando il progetto in collaborazione col CSV Fosse l'ennesimo progetto noioso? Beh, invece mi ha aiutato a svegliare il bambino Che si colloca all'interno di tutti noi In futuro capirai Caro Flavio, non pensavo che questo progetto mi avesse cambiato la vita Ma alla fine mi ha insegnato che il volontariato rende più felici Caro Simone, prima di fare questo progetto non avevi la minima idea di cosa fosse il volontariato Ora l'hai capito facendo nuove esperienze Come quando sei andato a consegnare le uova ai bambini della casa famiglia E ti ha riempito il cuore e hai provato grandi emozioni Cara Anna Maria, questo progetto, al contrario di ciò che pensavi, ti ha fatto capire tante cose Soprattutto quanto ti rende felice aiutare il prossimo Facendo di provare emozioni nuove e bellissime Come la gioia di aiutare un bambino meno fortunato di te Porterei sempre con te il ricordo stupendo di questa esperienza Facendo di provare emozioni nuove e bellissime Facendo di provare emozioni nuove e bellissime